Dio amici, benvenuti al nostro set di musica Siete pronti? La brusola sta spiegando per te Ora ascoltate la musica di Tick House e attivate il tuo servizio No. 1 Alberto Di Medio Electro Boy La brusola sta spiegando per te 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 Grazie a tutti. 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 Number 6. Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti